Musica Spaccio e degrado in stazione per il PD cittadino, Bitonci ha fallito sul suo cavallo di battaglia, la situazione è peggiorata, duro attacco sulle condizioni dell'Arcella Puntata speciale stasera di Focus in studio con il direttore Luigi Bacialli e il governatore Luca Zaia, Veneto no tax verso l'autonomia il titolo E proprio il governatore Luca Zaia, la sua maggioranza ha rivolto l'appello dei sindaci dei Cogli Euganei pronti a salire sulle barricate contro l'emendamento Tagliaparco Il primo cittadino di Montegrotto si inserisce nella polemica tra il commissario Aversa e il presidio permanente di Abano, basta politica nei comitati, dice Incidente mortale nella notte, a bovolenta a perdere la vita un carabiniere 39enne in servizio a Esther, a padre di due bambini E a San Giorgio delle Parti che la Lega Nord denuncia il sindaco Prevedello, a per il consigliere del Carroccio Canella esiste un palese conflitto di interesse Bilancio delle attività antidroga dei carabinieri, quasi 300 gli spacciatori arrestati, più di 100 i chili di droga sequestrata Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con TG Padova, ancora una volta in apertura la difficilissima situazione della zona circostante, la stazione ferroviaria di Padova Qua nella zona della stazione possiamo vedere bene l'eredità di due anni di giunta a Bitonci Solo slogan, niente fatti, con le stupidaggini sui kebab non ha risolto assolutamente niente e i cittadini sono esasperati La testimonianza a Rete Veneta di un residente che ha svenduto la propria casa pur di andarsene dalla zona dell'Arcella a ridosso della stazione ferroviaria E' solo uno dei sintomi dell'esasperazione della popolazione Quella parte di città è oggi ancora più insicura di quando nel 2014 comparvero i primi manifesti elettorali di Massimo Bitonci Che prometteva di far sparire spaccio di degrado proprio da quei paraggi Altro che il degrado via da qui, qua il degrado è rimasto tutto ed è aumentato purtroppo Ma perché servono politiche complessive, qui non si deve fare il deserto come ha fatto lui pensando di fare sicurezza Invece ha reso questa zona ancora più degradata, ancora più insicura Il metodo utilizzato finora per cercare di risolvere il problema si è rivelato profondamente sbagliato Attaccano dal PD perché è andato a colpire le attività economiche lasciando la zona ancora più vuota e quindi terreno più fertile per lo spaccio Dobbiamo attirare investimenti, far riaprire i negozi, fare attività Spendere in questo, non nelle marchette che fanno contenti alcuni amici ma che per i padovani lasciano solo il terrore di uscire la sera Non va bene così, noi cambieremo la sicurezza, la faremo sul serio, coi fatti perché è un tema di centro-sinistra Andiamo a battaglia terme, c'è un appello del sindaco al governatore Zai, alla sua maggioranza Dice si fermino, fermino questo emendamento della finanziaria che cancella buona parte del parco Cogli E poi discutiamo tutti insieme una riforma Sindaci dei Colli Auganei pronti a salire sulle barricate contro l'emendamento di maggioranza La finanziaria regionale che cancellerebbe parte delle tutele ambientali per circa l'80% del territorio del parco Cogli È stata una cosa calata così come una scura e dall'alto, senza nessuna informazione preventiva E quindi è una questione sia di metodo che di merito Di metodo perché inserire un emendamento del genere nella finanziaria credo sia stato il peggiore dei modi in cui si poteva fare Nessuno nega i problemi del parco ma questa è la risposta peggiore possibile, sostiene il primo cittadino di battaglia terme Quello dei cinghiali credo sia solo un pretesto per eliminare delle tutele che impediscono al parco di diventare terra di conquista Teniamo presente che di notte i nostri colli sono anche frequentati da escursionisti, ciclisti La zona è molto abitata e veramente dare, aprire la caccia in maniera così indiscriminata Può essere veramente il rimedio peggiore che si possa pensare I cinghiali si possono contenere, sostiene Momolo, finanziando adeguati interventi da parte di personale addestrato L'appello è al governatore Luca Zaia e alla maggioranza in regione perché stralcino l'emendamento E discutono una vera riforma del parco insieme ai rappresentanti del territorio Ci si può mettere attorno a un tavolo, ragionare su quelle che possono essere dei correttivi Da portare alla gestione del parco che sicuramente ha bisogno di essere Ricordiamo che è commissariato Il parco deve essere potenziato perché in questi anni comunque un suo compito importante lo ha assolto C'è incompatibilità assoluta di vedute e scontro ideologico totale Tra il sindaco di Montegrotto e una parte della cittadinanza di Abano Comune con termine per quanto riguarda la gestione della vicenda profughi Il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello si inserisce nella polemica tra il commissario Prefettizio di Abano e il comitato antiprofughi che da mesi presidia la caserma Primo Rock di Giarre Ci sono obiettivi politici, dietro la protesta aveva tuonato Pasquale Aversa Pronto a far scombrare il presidio definito dallo stesso commissario orribile e antiestetico Dal canto suo il presidente del comitato Abano dice no ai nostri microfoni Non aveva negato la piega politica in vista proprio delle elezioni comunali di primavera Una svolta che non piace al sindaco di Montegrotto Sicuramente c'è una speculazione politica di persone che anche non sono di Montegrotto Semplicemente per un tornaconto elettorale oppure per fare così un po' di attività politica Io consiglierai a tanta gente di darsi da fare, di starci a fianco nella gestione di questo problema Il problema è di non innescare dei procurati allarmi che non hanno motivo di esistere Perché, spiega il sindaco, l'accoglienza va gestita e Montegrotto in tema di profughi Sposa il progetto Sprar che permette di controllare il numero di arrivi 14 richiedenti asilo destinati al momento al comune termale ospitati nella casa dei frati Per quanto riguarda invece l'utilizzo delle caserme la posizione di Mortandello è chiara La caserma che si presta per una prima accoglienza assolutamente no Noi siamo contrari alla prima accoglienza, agli ammassi di persone Ma siamo favorevoli a una gestione suddivisa del problema tra tutti i comuni E' ora che i sindaci che tanto urlano si diano da fare per risolvere il problema A Bovolenta questa notte purtroppo ha perso la vita un carabiniere che era anche padre di due bambini Un appuntato dei carabinieri del nucleo radio mobile di Este era libero dal servizio Era il suo giorno di riposo Stava rientrando proprio verso Este dopo una serata passata con amici Ha avuto un incidente molto grave La strada era anche ghiacciata, sono stato sul posto ed questa notte era ancora tutto ghiacciato E purtroppo si è ribaldata la macchina e l'incidente è stato fatale A perdere la vita Pasquale Castaldo, 39enne, carabinieri in servizio all'aliquota radio mobile del NORM della Compagnia di Este L'incidente mortale è avvenuto a Bovolenta intorno alle tre e mezza di stanotte Il militare era alla guida della sua auto, una Matiz Quando per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine ha perso il controllo del mezzo Castaldo è andato prima a sbattere contro il muretto in cemento di un ponticello Poi l'auto si è capovolta Un impatto violentissimo, il carabiniere è morto sul colpo incastrato fra le lamiere dell'abitacolo A chiamare i soccorsi è stato un residente che ha sentito il forte botto e visto l'auto capovolta in mezzo alla strada Immediato l'intervento dei carabinieri del suo M118 e dei vigili del fuoco Ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare Pasquale Castaldo, originario della Campania, aveva prestato servizio anche a piove di sacco Da pochi mesi era stato trasferito ad Este, lascia la moglie e due figli piccoli di 3 e 6 anni È passata un po' in sordina la notizia dell'approvazione della finanziaria Naturalmente coperta da tutto quanto riguarda la crisi di governo Ma ci sono importanti provvedimenti che riguardano il Veneto Ve li spieghiamo con l'aiuto del senatore PD Giorgio Santini Ammontano a circa 3,4 miliardi di euro i benefici per il Veneto Contenuti nella finanziaria 2017 approvata con la fiducia dal Parlamento nel pieno della crisi di governo A diffondere il dato il senatore PD Giorgio Santini, autore di un approfondito studio sulle ricadute della manovra nel nostro territorio Questa è stata una buonissima legge di bilancio Ed è molto buona soprattutto perché parla a tantissimi problemi che il nostro Paese ha Con questo ovviamente non voglio dire che non ce ne siano ancora tanti da risolvere problemi Però ci sono dei passi avanti molto importanti Noi abbiamo fatto dei conti precisi relativamente ai singoli provvedimenti Tra i benefici fiscali vi sono la diminuzione dell'IRES per 77 mila imprese venete Gli incentivi per l'alta tecnologia che faranno risparmiare circa 360 mila euro in 5 anni per ogni milione investito Il credito d'imposta per la ricerca che dovrebbe superare i 300 milioni nella regione Per quanto riguarda gli aspetti sociali l'aumento di 2 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale porterà 180 milioni in più alla sanità veneta Mentre 3.500 pensionati prenderanno per la prima volta la 14esima nel 2017 Il bonus nascite di 800 euro interesserà 40.000 famiglie venete Siamo ancora in grande difficoltà lo sappiamo però ci sono alcuni passi concreti Il 2017 sarà molto importante perché questi provvedimenti che valgono complessivamente 25 miliardi di cui dicevo 3 per il Veneto Possono dare effettivamente una mano, un respiro ad aziende, famiglie, persone per vivere meglio di quanto si è vissuto in questi tempi A San Giorgio delle Pertiche la Lega accusa il sindaco di conflitto di interessi Lo denuncia in tribunale, scopriamo perché La Lega Nord querella il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Pier Giorgio Prevedello Vogliono che sia la magistratura a mettere la parola fine a quello che il consigliere d'opposizione Daniele Canella Considera un palese conflitto di interesse Mercoledì pomeriggio sono stato dai carabinieri a Campo San Piero Ho presentato un esposto affinché sia la giustizia italiana ad esprimersi sulla sua posizione In quanto essendo sindaco e quindi rappresentante legale del comune, socio della società Etra Ma al tempo stesso lavoratore dipendente non in aspettativa della società Essendosi questo più volte recato e votato in palese conflitto di interessi Abbiamo deciso di procedere in questi termini in modo che sia la giustizia italiana a verificarne la legittimità L'organismo di vigilanza di Etra si è già espresso dicendo che il conflitto di interesse per il prevedello dipendente non sussiste Ma secondo la Lega il conflitto si manifesta nel momento in cui esercita le funzioni da primo cittadino Viene contestato un episodio specifico Sicuramente il fatto di aver partecipato ad alcune assemblee E non ultima l'assemblea di sindaci o meglio la conferenza di sindaci in cui si è deciso di incorporare presso il patrimonio di Etra Il patrimonio delle vecchie società Seta, Altopiano Servizi e Brenta Servizi Bisogna specificare che il sindaco per questa votazione aveva ricevuto il mandato del suo consiglio comunale Avrebbe potuto avere mandato il consiglio comunale ma lui non avrebbe né dovuto partecipare al consiglio comunale Dove si è deciso di aumentare il patrimonio della società di cui è lavoratore dipendente Ne avrebbe dovuto partecipare alla conferenza di servizi di Etra Che ricordo essere l'organo dove i sindaci, quindi i soci, esercitano il controllo analogo sulla società Etra Continua la lotta alla droga anche nella nostra provincia I carabinieri hanno fatto davvero molto quest'anno Purtroppo al momento non sembra possibile sconfiggere questo fenomeno 294 spacciatori arrestati, più di 100 kg di hashish sequestrati Oltre a marijuana, cocaina, eroina e droghe sintetiche Sono i numeri diffusi oggi dal comando provinciale di Padova Che ha tirato le somme dell'operazione Padova sana Dal 1 gennaio al 30 novembre di quest'anno Una massiccia attività di contrasto allo spaccio di droga Che in città ha interessato in particolare le zone maggiormente battute dagli spacciatori E dunque l'Arcella, la stazione Borgomagno, le piazze e Prato della Valle Dei 294 arrestati, 216 sono stranieri Circa il 74% e sono per la maggior parte magrebini Per quanto riguarda gli assuntori invece Si tratta in particolare di giovani In alcuni casi anche di minorenni Per loro sono scattate le relative segnalazioni Questa sera alle 21.05 Come vi ricordavamo poc'anzi Importante appuntamento con lo speciale Focus In cui il nostro direttore Luigi Bacialli intervisterà il governatore del Veneto Luca Zaia Veneto no tax, verso l'autonomia questo il titolo Domani alle 9 il Santo Rosario A seguire la parola del Signore Alle 10 la diretta della Santa Messa dal santuario di Motta di Livenza Alle 14.20 idea formazione nord-est Alle 15 321 Sport Poi alle 15.20 se non riuscite a guardarlo stasera La replica dello speciale Focus ancora una volta con il nostro governatore Luca Zaia Alle 17.50 Agricoltura Veneta Noi abbiamo finito Vi lasciamo con il presepe della famiglia Udovici di Sant'Agostino Come sempre con le nostre previsioni meteo Buona serata Tu scendi dalle stelle Le previsioni per domani In pianura fino a metà mattina cielo sereno o poco nuvoloso Con nebbie estese a sud dell'asse Verona Treviso e locali altrove Poi alternanza di nuvolosità variabile e schiarite In montagna cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno Precipitazioni Probabilità basso e in prevalenza assenti Su costa e zone limitrofe piogge locali Di scarsa entità e breve durata Temperature sulla pianura in aumento rispetto a ieri Sui monti in calo eccetto stazionarietà dei valori notturni nelle valli Grazie a tutti Grazie a tutti